Incarnano le più terrificanti ossessioni di tutti. Il peggiori incubo della mia vita. Le angosce che ti toglieranno il sogno. È arrivata la fine del mondo! Stroncati dalla critica. Le stelle muoiono per farci vivere. Ma la rete. Siamo in guerra. Li ha portati al successo. E la battaglia comporta una selezione. Sono fenomeni virali. Oh mio Dio. Il cinema cult che non lascia vie di scampo. Domenica alle 21. Su cielo. Siamo in guerra.